Piano forte e del meraviglioso maestro Nicolosi che è qui per accompagnarmi. Piano forte e del meraviglioso maestro. Piano forte e del meraviglioso maestro. Non, non, a Marseille, écoute chérie, qu'est-ce que vous serez à Marseille après demain soir ? Piano forte e del meraviglioso maestro. 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 Grazie mille anche al maestro Nicolosi che è stato così gentile da accompagnarsi con la sua mano veramente fenomenale.